...sono! ...che lavoro, sbricciarò, finirò paverà... Ma perché lui voleva metterli di traverso e io invece ho pensato di metterli per lungo, mettendoli per lungo bastavano, ne bastava la metà. Mette la figa lui, mette la figa, eh, la figa bisogna lasciarla agli altri la figa. Sarà perché sono il più vecchio e un po' rimambito, lo so, ma crede lui magari. ... 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